comandamento aereo perchè sei chigino ti stavo per uccidere siamo in due livelli diversi e concettiamoci, c'è questa cosa da fare uno su tre, ok, mi piace storia ma facevo io dove? a Zod e a destra col libro su Aene, era quello ok oh, straddy allora, sì sì aspettiamo Allora Che scemi che siamo Vola per favore Fenditi qua B Questa che salta Ok The Batwing The symbol of the Batwing Aia Kriptonite Male Anche a me Avveniamo entrambi da qui Ha chiesto generale Zod Qualcuno me lo scrive Per favore nei commenti di sto video Perché Voglio capire che cavolo è Scusate l'ignoranza Io conosco solo le cose di Batman Grazie uccello Allora Qua c'è un minichino Qualca miseria Non c'è 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 Qua miseria Il ponte è quello lì Come si fa E' nero Si Eh ma non sbrilluccica Quindi Forse tirando questo Senza andare Ci sono dei pezzi Per qualcosa No Ma vedi lì che c'è una forma Forma? Si lì c'è Ci sono due righe Aspetta un attimo E' qua dietro No Quello lì Quello che lo odia Puoi salirci Se hai bilanci Del Superbowl Ah si Per spazzare quelli Ma se puoi andare con lui Va bene No Allora Bomba Direi che manca Scusate per il casino È un momento in cui C'è un momento in cui C'è molto casino Allora Qua C'è l'exluto Stiamo Molto bello Che Una ventola in alto Se ci vai dentro Se ci vai dentro Muori Volà No No Nel senso Quello Cosa fa quello Para Fai X Fai B Che faccia Ah Questo è un altro Che quelli Che c'è anche un bel mini Che lì Secondo me Questo è un po' da baccara Scena tu scusa Maggia Ah E perché bisogna E' un po' di nefali entro nel tempo lì Ah, c'è una miseria E' dai! Ah, asci, vare a 5 minuti Spetta, vieni qua, vieni qua Meera? No Io vado sinistra, dov'è a destra? Ah, vieni qua Vicino a te Però non me lo prendo Dai, se non ti va bene a destra Ah, perchè ne mancava l'ufo Allora Facciamo come dicevi te Vai Oh, in due bisogna fare la staccolta signora Eh già Andiamo a 6 O in uno e sei molto bravo E che vuoi... Congelare Nooo, non lasciarmi solo Qua c'è ancora Qua c'è ancora... Qua c'è ancora... Qua c'è un pulsante ragazzi A destra Ma non si sbanda E perchè per il minikit, no? Si, ma serve... Ah, qua c'è ancora Lexington Lanternina! No, mio, 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 mio Va bene, va bene, va bene Tanto sono Lord Flyer Eccolo Eccolo Ah, perchè lo fa col martello Ah no, sta rompendo in alto Eccolo Il pulsante mi serviva a fare soldi Bene, andiamo Monta quella cosa lì Tu sei Kyle Kent e io sono Superman Siamo la stessa persona Eh?